Un lungo faccia a faccia con Donatella Tessei, presidente della regione dell'Umbria, e Roberto Morroni, vicepresidente con delega all'ambiente per ribadire la netta posizione delle comune di Gubbio sul tema dei CSS. A fronte di una mozione votata a larga maggioranza da Palazzo Pretorio, il sindaco di Gubbio Stirati definisce l'incontro a Perugia sereno nei toni ma fermo nei contenuti, durante il quale è stata ribadita la posizione e contestato nuovamente il metodo dell'operare, sottolineando ancora una volta che la richiesta di AIA semplificata è inaccettabile, perché pretendiamo che la città non sia scavalcata e ci sia un coinvolgimento pieno di comune, cittadini, associazioni, con percorsi trasparenti e partecipati a beneficio della verità e di una corretta comunicazione. Stirati ha ribadito anche a Tesei e Morroni la vocazione della città di Gubbio a politiche di salvaguardia dell'ambiente, che promuovano cultura, turismo, paesaggio e tipicità. Il tema dei CSS, sin da sei anni fa, è stato parte costitutiva del programma. Sono stato eletto dagli Ugubini per portare avanti un percorso in questo senso e oggi, forte anche del consenso della legittimazione della larga maggioranza del Consiglio Comunale, porto avanti con fermezza le mie convinzioni. Le aziende sollevano legittimamente il loro punto di vista e hanno certamente il diritto di fare puntualizzazioni che riguardano le loro strategie, ha sottolineato il sindaco durante l'incontro, ma allo stesso modo da parte nostra e di tutta la città, c'è una forte esigenza di fare chiarezza sui temi della salute e delle condizioni ambientali. Stirati in questo senso ha ribadito alla presidente Tesei anche la necessità di effettuare approfondimenti di tipo epidemiologico per dare risposte certe ai cittadini, non solo in relazione al tema dei cementifici, ma in generale sulle condizioni dell'aria, della terra e dell'acqua. Non è accettabile pensare che una città a vocazione turistica, con una fortissima storica attenzione all'ambiente e alla sostenibilità, diventi oggi punto di caduta della chiusura del ciclo dei rifiuti. Si tratta di un percorso che non può prendere scorciatoie.